Salvatore Pelliccia, ultimo volto nuovo in casa Fidelis, ci racconti le prime sensazioni di questo esordio con la maglia bianca azzurra? Guarda, sono state sensazioni molto positive perché alla fine Andrea è una grande piazza, è una buona squadra, buonissima squadra, sono state sensazioni molto positive. Domenica contro la T-Maltamura avete dimostrato di voler a tutti i costi la vittoria, quanto sono stati importanti questi tre punti? Fanno numero questi punti perché alla fine la classifica è molto corta, poi noi tutte le partite dobbiamo pensare così, che vogliamo vincere tutte, non ci poniamo limiti, è giusto che ci mettiamo questo spirito e questa voglia. Mister Panarelli ti conosce bene, ti ha voluto a tutti i costi, cosa ti chiede in particolare? Guarda, alla fine sono le solite cose che abbiamo lavorato insieme, le cose che chiede a chiunque di noi, l'attenzione prima di tutto, la voglia e la determinazione. Domenica arriva un'altra gara difficile, tu conosci bene i campi campani, quanto sarà difficile affrontare il Portici? Guarda, le campani fanno sempre i loro campionati, specialmente giocare in casa loro è molto dura, però alla fine le partite si giocano e noi facciamo la miglior partita. Grazie Grazie